Se volete credermi, bene. Ora dirò come è fatta a Ottavia, città ragnatela. C'è un precipizio in mezzo a due montagne scoscese. La città è sul vuoto, legata alle due creste con funi e catene e passerelle. Si cammina sulle traversine di legno, attenti a non mettere il piede negli intervalli, o ci si aggrappa alle maglie di canapa. Sotto non c'è niente, per centinaia e centinaia di metri. Qualche nuvola scorre, si intravede più in basso il fondo del burrone. Questa è la base della città, una rete che serve da passaggio e da sostegno. Tutto il resto, invece di levarsi sopra, sta appeso sotto. Scale di corda, amache, case fatte a sacco, attaccapanni, terrazzi come navicelle, otri d'acqua, becchi del gas, girarrosti, cesti appesi a spaghi, montacarichi, docce, trapezzi e anelli per giochi, teleferiche, lampadari, vasi compiante dal fogliame pendulo. Sospesa sull'abisso, la vita degli abitanti d'Ottavia è meno incerta che in altre città. sanno che più di tanto la rete non regge. sanno che più di tanto la rete non regge.